buongiorno a tutti allora video velocissimo perché stasera abbiamo ravioli ripieni di pesce di vario tipo fatti a mano dal nostro chef bravissimo e quindi ci tenevo a mostrarveli poi ha fatto ancora le penne alla fiamma che così vado vado a fuoco intanto guardate dopo che oggi sono andato a portare il computer mi ha detto che è morto io sono defressus quindi ho bisogno di tirarmi su spero che le fiamme servano a qualcosa comunque niente ragazzoli io adesso me li pappo spero di farvi venire come sempre fame mi auguro che non arrivi la solita chiedermi come mai sono finito sono finita su questo canale se non vieni a chiedere a me se non lo sai te no veramente non ho avuto parole e se non lo sai te fa non so come sono capitate in questo canale se non lo sai te va bene ragazzoli omaggio sera non abbiamo la dea binerva ma abbiamo sia della dea venere pollo che la di la nostra renzi e quindi siamo felici lo stesso chaos